Le attività di sopralluogo avevano escluso l'omicidio a scopo di rapina, l'omicidio a sfondo sessuale, abbiamo ipotizzato che si trattasse anche perché era un reato commesso con impeto, abbiamo ipotizzato l'omicidio diciamo così passionale e abbiamo così cercato di scavare nel vissuto della donna degli ultimi mesi, nelle relazioni sentimentali che questa donna aveva avuto e diciamo l'intuizione ci ha premiato perché siamo arrivati ad individuare come responsabile quello che era stato il convivente della donna e lui era il responsabile di fronte così chiamato a responsabilità sentito dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Rimini e ha ammesso diciamo le proprie responsabilità. L'arma la stiamo ancora cercando, lui se ne ha liberato è verosimilmente si tratta di un coltello, c'era una sorta di incontro, di appuntamento, di qualcosa di organizzato insomma di cui ha approfittato evidentemente la persona che poi le voleva male, l'ha aspettato che scendesse nel sottopassaggio e poi l'ha affrontata con impeto e l'ha aggredita. E' ovvio che questo sia stato un omicidio premeditato. Sì sicuramente pensato, organizzato, premeditato.